Grazie Fidelio perché lui spesso, lo conoscete con il fondo televisivo del DG3, ma spesso ti sei interessato ai centipendenti vicino alle tematiche sociali e soprattutto vicino ai giovani. Ecco, questa passione come nasce? Guarda, ho sempre fatto cinema, ma più di che teatro. Con l'altro di anni dell'università io mi sono lavorato molti anni fa dritto, la sua buona, poi mi sono rilavorato in scienze politiche sempre lo so buona e poi dal 74 sono venuto qui, sono vecchio e ho anche quattro figli, sono anche nonno e quindi ho sempre vissuto con i più piccoli, ho insegnato, ho insegnato gli adulti, ho insegnato gli adulti e i ragazzi e il cinema e l'impegno sociale, sono occupato di podere le scuole, il tempo libero soprattutto, anche perché costa solo quando non costa, non costa nulla e io voglio dire a tutti quelli che hanno partecipato, soprattutto nelle sezioni ai giovani e ai bambini, che tutte le opere sono meritevoli di un premio, però fate voi un premio a quest'opera. Grazie Fidelio, grazie a voi, grazie a voi all'administrazione e alla prossima musica.